I miei capelli sono un pochino un diario, se vogliamo vederla così, del tempo che è passato. Inizialmente li tenevo super lisci, poi crescendo in concomitanza anche con dei bei momenti della mia vita, di presa di coscienza forse. Hanno incominciato a essere ricci, disordinati, ogni giorno diversi e va bene così perché sono miei, mi rappresentano. Allora io ho cercato di controllare sempre tutto, i capelli, la mia vita, e poi ad un certo punto mi sono reso conto che forse il modo migliore per vivere era perderlo un po' quel controllo. È la stessa cosa ho fatto con i miei capelli e da allora ne hanno giocato molto. E per quanto possa essere un po' ridicolo, i miei capelli sono anche un po' un promemoria dell'importanza di lasciare che le cose vadano come devono andare, perché a volte è in quel modo che si esprimono al meglio.